Camporoia a 20 miglia, fa ancora tantissimo freddo, com'è la situazione qui al campo dopo gli arrivi dei giorni scorsi? La situazione è tranquilla, per fortuna il peggio della neve è passato, il campo ha circa 350 persone, molti si sono convinti a lasciare il fiume grazie anche alle navette dei nostri volontari di Croce Rossa che li hanno portati dal fiume verso il campo. Che tipo di situazione hanno trovato al fiume quando li hanno portati qui? Erano particolarmente bagnati e molto infreddoliti ovviamente, qui hanno trovato un luogo comunque accogliente, caldo, un pasto caldo e insomma la situazione per le persone che sono giunte qui è decisamente migliorata. Fa ancora freddo, si aspetta ancora della neve, la situazione qui al campo in termini di numeri, quanti ancora ne potete accogliere? No, a posto ce n'è ancora parecchio, noi possiamo arrivare anche a 500 persone, di conseguenza speriamo che grazie anche alle associazioni che operano al fiume che si convincano a venire da noi. Abbiamo circa una quarantina di persone che sono composte di nuclei familiari, alcune mamme con bambini, alcuni nuclei completi, mamma, papà e bambini. Anche oggi insisteremo ancora con i nostri pulmini, i nostri volontari per convincerli a salire. Sicuramente penso che qualcun altro si convinca a venire da noi. Questa mattina ci sono stati dei rispingimenti, sono tornate al campo una donna incinta di 7 mesi che era già stata nostra ospite e un'altra mamma con un bambino. È la loro meta, la loro meta è la Francia, il loro desiderio non è sicuramente quello di rimanere in Italia. Questo fenomeno riguarda particolarmente gli eritrei, ce ne sono tantissimi sia qui che al fiume, perché da quando è finito per il momento il programma della relocation e quindi loro non attendono oltre e vogliono andare.